i fondi per rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione. Sono molto soddisfatto che abbia prevalso il principio del libero mercato e della scelta di non imporre nuove tasse. Abbiamo ottenuto, come chiedeva Forza Italia e come chiedevo io, che l'azione delle banche a sostegno della manovra non fosse frutto di una imposizione dall'alto e non fosse una tassa su extra profitti. Non so cosa significhi extra profitto perché non si sa chi definisce, forse nei regimi dittatoriali si definiscono gli extra profitti. Invece grazie a un lavoro concreto di dialogo con le banche e assicurazioni abbiamo avuto la possibilità di poter utilizzare 3 miliardi e mezzo con un accordo e non con una imposizione. L'accordo è un messaggio chiaro anche ai mercati perché un'imposizione avrebbe spaventato i mercati perché un Paese che impone tasse a tutto spiano è un Paese che spaventa i mercati. Se lo impone alle banche, lo impone alle imprese, significa che è un Paese che limita il mercato. Noi invece abbiamo voluto fare l'esatto contrario. Siamo stati ascoltati innanzitutto dal Presidente del Consiglio, che ringrazio, dal Ministro Giorgetti e quindi credo che questa manovra sia ampiamente soddisfacente nelle ristrettezze economiche del caso. Sapete che c'è un patto di stabilità, ma proprio perché va nella direzione di aiutare le imprese. Pensiamo anche a tutti gli aiuti che ci sono per il sud d'Italia. Pensiamo alle contribuzioni per le ZES, eccetera. Quindi è una manovra che mi soddisfa pienamente. Vediamo adesso quando si andrà in Parlamento, se si potranno apportare altre migliorie. Vedremo quali saranno i mezzi finanziari a disposizione, ma voglio essere ottimista e se ci sarà la possibilità, noi continueremo a insistere affinché le liquide IRPEF possano scendere da 35% al 33% e allargare la piattaforma fino a 60 mila euro. Vedremo quali saranno le condizioni degli introvidi che dovranno arrivare con il concordato preventivo entro la fine del mese e vedremo se sarà possibile fare questo, perché sappiamo bene che sono le coperture quelle che sono indispensabili a trovare.